Non si fermano ricoveri e contagi, marche in giallo dal 27 dicembre. Vaccini partiti a Urbino, le prime somministrazioni ai bambini. Metà immobile inutilizzato, la provincia cerca una nuova sede. Per la prima volta a Pesaro ospita una mostra dedicata a Rembrandt. Benvenuti al telegiornale di oggi. Oggi è giovedì 16 dicembre e apriamo questa edizione occupandoci di un'altra giornata che contrassegna un nuovo boom di contagi da Covid-19. E ancora più preoccupante, aumento di ricoveri. Numeri che continuano a crescere e che, come affermato dallo stesso presidente Acquaroli, danno ormai per inevitabile il passaggio della regione da zona bianca a zona gialla subito dopo il Natale. La quarta ondata di pandemia sferza la regione Marche con violenza crescente. Ogni nuova data batte infatti il record di contagi della giornata precedente. Numeri impietosi quelli che arrivano dall'osservatorio epidemiologico regionale, dove dopo i quasi 700 casi rilevati ieri, oggi i contagi toccano quota 753. Mai così tanti da inizio 2021. La provincia d'Ancona tira il gruppo dei contagi con 233 casi, Peser Orbino la segue con 201 episodi di contagio. Il tutto per un tasso di incidenza che viaggia verso il picco di 263 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Ad essere più colpite la fascia fra i 25 e i 60 anni, dove si radunano più della metà dei casi. Sono numeri che attualmente dicono come le Marche resteranno in zona bianca fino a Natale, per poi essere probabilmente declassate a zona gialla dal 27 dicembre. Attualmente l'unica differenza tra le regole della zona gialla e quelle della zona bianca riguardano l'uso delle mascherine, che nella prima sono obbligatorie anche nei luoghi all'aperto e non solo nei luoghi chiusi. Fino al 6 dicembre c'erano altre differenze, che però sono venute meno con l'entrata in vigore del Green Pass rafforzato. Ad esempio, non ci sono più distinzioni per quanto riguarda i limiti di capienza di eventi, spettacoli e ristoranti, a cui tanto in zona bianca quanto in zona gialla ora si può accedere solo col Green Pass rafforzato. Una prospettiva di zona gialla che lo stesso presidente della regione Acquaroli ha etichettato ormai come inevitabile. Fino a Natale saremo bianchi, poi dopo Natale c'è un rischio concreto di passare in zona gialla. Voi sapete che la zona gialla comporta inevitabilmente l'indossare la mascherina anche all'aperto, comporta la riduzione del numero delle persone che possono sedere in un tavolo nei ristoranti. Però quello che a me preoccupa, lo dico molto francamente, non è tanto la zona gialla che vedo ormai un rischio quasi inevitabile, spero di sbagliarmi ma un rischio quasi inevitabile. A me preoccupa perché la zona gialla arriva proprio alle porte dell'inverno. Noi abbiamo tre mesi con tutte le festività natalizie, il Capodanno, l'Epifania e tutte le altre manifestazioni. Ecco, io spero che si possano mettere in campo tutte le iniziative affinché la curva pandemica possa essere tenuta sotto controllo e si possano scongiurare poi invece provvedimenti ulteriori più pesanti. Intanto l'amministrazione regionale non prevede misure restrittive fino a nuovi pronunciamenti del governo. Se io dovessi mettere ad esempio la mascherina all'aperto, di fatto anticiperei la zona gialla. Ma c'è un decreto del governo che dice quando dobbiamo portare le mascherine all'aperto. È per questo che noi non abbiamo fatto l'ordinanza. Altrimenti, ripeto, la zona gialla prevede due restrizioni. Una, la mascherina all'aperto e due, il tavolo con quattro persone al ristorante. Io ritengo che se noi facciamo l'ordinanza per la zona gialla anticipiamo quello e andiamo anche a contraddire quello che è stato l'individuazione del CTS rispetto all'indossare, all'utilizzo della mascherina. Preoccupa l'ascesa dei contagi, ancor più quella dei ricoveri. Oggi si aggiungono altri nove pazienti in degenza per un totale che arriva a 186 ricoverati nelle Marche, di cui 35 in terapia intensiva. Rilevati anche sei decessi di età compresa fra i 63 e gli 89 anni. Quattro sono uomini, Frafano, Terre Roveresche, Mondolfo e San Severino e due donne di Senigallia e Tolentino. La principale strada per attenuare i contagi è quella di intensificare le vaccinazioni, soprattutto in età giovanile. Oggi pomeriggio sono infatti partite all'ospedale di Urbino le prime vaccinazioni sul territorio provinciale per quel che riguarda la fascia pediatrica 5-11 anni. Domani pomeriggio le vaccinazioni partiranno anche all'ospedale di Muraglia Pesaro dal 22 dicembre, saranno attivate alla Casa della Salute di Vallefoglia mentre ancora in via di definizione il programma per gli ospedali di Cagli e Fano. Secondo l'aggiornamento di oggi alle ore 16 sono 2.532 le prenotazioni nelle Marche per i vaccini ai bambini fra i 5 e gli 11 anni. Di queste 404, quelle in provincia di Pesaro Urbino. Intanto nei giorni scorsi vi abbiamo parlato della richiesta dell'associazione Timmagini Onlus di riattivare la clown terapia nei reparti pediatrici di Marche Nord. Richiesta che intanto vede un'apertura col fatto che i clown dottori hanno allietato il momento delle vaccinazioni oggi a Urbino e saranno presenti anche domani a Muraglia. La provincia di Pesaro Urbino sta cercando una nuova sede. Troppo sovradimensionato l'attuale stabile di via Gramsci per le attuali esigenze dell'amministrazione che ora tenta la via del trasloco. Troppi spazi inutilizzati, troppi costi da sostenere. Una combinazione trascinata negli ultimi anni che ora porta la provincia di Pesaro Urbino a cercare una nuova sede rispetto a quella attuale di via Gramsci. La cura dimagrante di competenze dell'ente rispetto ad anni fa, la riduzione di servizi e il più frequente ricorso allo smart working rendono infatti lo storico edificio esageratamente sovradimensionato. Motivo per cui l'amministrazione del presidente Giuseppe Paolini è ora sul mercato immobiliare. Vuoi per cercare una nuova sede con spazi più funzionali? Vuoi per sondare il terreno su interessati al palazzo di via Gramsci? Si è parlato in ufficio col direttore, col segretario e anche con alcuni consiglieri degli enormi costi che abbiamo di gestione qui della provincia e di come possa essere più idonea per noi una sede più piccola perché c'è stato un ridimensionamento del personale e ci sono parecchi lavori da fare anche di ristrutturazione, efficientamento energetico eccetera. Potrebbe anche essere la soluzione metterci alcune associazioni o alcune realtà che hanno bisogno di sede ma le metterei in un luogo che tra un po' dovrebbe essere in parte e anzi quasi completamente ristrutturato. Per cui se c'era la possibilità di trovare una sede più piccola per noi sarebbe stato l'ideale ma ancora non è deciso niente. La provincia avrebbe messo gli occhi sull'ex sede della Banca d'Italia in via Rossini a cavallo fra centro e mare come stabile dalle dimensioni e dalla collocazione geografica adeguata. Mi piacerebbe avere i miei sogni irrealizzabili di avere una sede proprio nel centro storico in via Rossini in modo particolare che vedi affacciando ti potresti vedere anche la palla di pomodoro ma mi va bene qualsiasi posto e qualsiasi luogo. Noi abbiamo contattato la Banca d'Italia per chiedere se c'erano altre realtà che erano interessate a quello ma questo è già un paio d'anni e ancora non si è realizzato niente. Non lo so, vediamo, può darsi che sia quello, può darsi che ci sia altre realtà, altre situazioni che possono svilupparsi. Servizi che cercano una nuova sede e altri che l'hanno appena inaugurata. È il caso del punto IAT di Gradara che sarà un nuovo spazio per promuovere il turismo del neonato distretto Riviera del San Bartolo. Vediamo in servizio. L'ufficio nasce naturalmente dalla necessità di accogliere al meglio i turisti e i visitatori di questo borgo che sono, come sapete, numerosissimi. Stiamo parlando probabilmente del primo sito culturale in termini di presenze marchigiano e fino al 2019 eravamo il trentesimo sito culturale in Italia per numero di visite. Quindi c'era la necessità di avere uno strumento più flessibile, un'attività più performante dal punto di vista delle richieste. I visitatori oggi entrano, i turisti, naturalmente con una serie di richieste che sono modificate negli ultimi anni e soprattutto dopo la fase pandemica le richieste sono anche di materiali anche non sempre cartacei ma informazioni diciamo a tutto tondo anche dove trovare le informazioni. Questo è un ufficio di informazione turistica evoluto nel senso che è possibile acquistare naturalmente non solo i biglietti dei materializzati, fare delle promotazioni, noleggiare addirittura le biciclette per fare un tour nel circondario, acquistare i prodotti che sono sia enogastronomici che dell'artigianato artistico. È un fatto concreto che parla di integrazione, che parla di rete tra un territorio bellissimo quale è il nostro, quello più vicino, mi riferisco al San Bartolo, Agapicci, Cadara e Pesaro ma che non guarda solamente a quest'area ma si rivolge anche verso lento terra come Tavuglia oppure Mercatario sul Metauro ma non guarda neanche confini regionali. Infatti la presenza del comune di San Giovanni qua e del comune di Cattolica testimonia come la nostra vocazione essere territorio di confine poi si traduce in cercare collaborazioni e nell'ottica di una promozione turistica al quale non interessa il confine istituzionale ma vuole avere un'offerta che sia integrata, che sia facilmente accessibile, di un territorio ricchissimo dalle mille opportunità quale è il nostro. Un percorso di rilancio turistico con progetti chiari anche di costruzione di distretti e circuiti che riescono a cambiare esperienze, a ottimizzare le risorse e a creare sinergie. Tre fili di conduzione che devono creare nella nostra regione un'economia turistica che possa essere in grado di affrontare la sfida della destazionalizzazione, dell'attrattività nei confronti dei mercati nazionali e internazionali ma anche di spingere tanti che oggi possono dare un contributo, investimenti, di idee, di energia e di risorse rispetto ad un settore che può diventare filiera trainante nella nostra regione. Più qualità e sicurezza sulle nostre tavole. Il vicepresidente della regione Marche, Mirko Carloni, ha lanciato oggi la campagna di valorizzazione del marchio QM per garantire qualità e tracciabilità dei prodotti d'eccellenza della nostra regione. Per valorizzare il nostro territorio, le nostre imprese e i loro prodotti è stato creato il marchio QM, Qualità Garantita delle Marche. Con questo marchio si intende valorizzare i prodotti che corrispondono a disciplinari specifici e garantiti da autorità indipendenti. Oggi lo rilanciamo grazie ad una nuova campagna di comunicazione che ne esalterà i valori ma soprattutto rappresenterà l'unicità di questa straordinaria terra, le marche. La tracciabilità completa, la biodiversità, l'utilizzo corretto delle risorse a nostra disposizione, la trasparenza verso i consumatori, sono questi i valori fondanti dei prodotti a marchio QM che noi vogliamo esaltare e rilanciare in questa campagna di comunicazione. L'agroalimentare è una ricchezza fondamentale nelle marche perché ci identifica e ci lega all'alta qualità della vita. L'investimento che stiamo facendo sulla valorizzazione delle filiere e sui prodotti racconta chi siamo, identifica i valori, ma soprattutto ci rende garanti della salute e di un'alimentazione sana che mira a garantire la qualità ma anche la salute. La campagna QM è un invito a scoprire e a scegliere un futuro ad alta qualità, moderno, efficiente e sostenibile perché vogliamo costruire un futuro buono e vogliamo farlo insieme. Siamo le marche, diamo valore alla qualità. Restando in tema di prodotti del territorio parliamo della moretta fanese che ora, grazie all'azienda Cosmesi Italia, diventa pure un profumo, una novità per la tradizionale bevanda dei pescatori a cui se ne aggiunge un'altra, dei dolcetti rigorosamente alla moretta realizzati dalla pasticceria Nolfi. Allora vediamo questo curioso servizio di Simone Celli. Caffè, anice, rum, cognac e una scorza di limone e guai a toccare la ricetta o a sbagliare le dosi. Se c'è una cosa di cui i fanesi vanno particolarmente fieri è senz'altro la moretta, bevanda nata per riscaldare e corroborare i pescatori alle prese con il freddo del mare d'inverno. Una specialità che nel tempo si è trasformata in un vero e proprio brand su cui investire per la promozione del territorio tanto da indurre un'azienda locale a tramutare quella che era soltanto una deliziosa bevanda in un profumo, moretta profano parfum. Un profumo che evoca ricordi, un simbolo che tramanda sapori, una fragranza che racconta una storia. Gli ingredienti fondamentali ci sono tutti, il caffè, l'anice verde di Castignano, il cognac, il rum, aromatizzati con una scorza di limone e zucchero, minuziosamente dosati per creare una fragranza avvolgente, aromatica e dolce. La paternità di questo progetto nasce dalla collaborazione tra tutto lo staff di Cosmes Italia, Andrea Meloni, il nostro creativo, chiaramente profumeria Taussi, dando vita a un brand completamente autotono della regione Marche, e in particolare di Fano, della città di Fano, da cui ne deriva il nome stesso, appunto, Profano, con lo scopo di rivalutare il nostro territorio, ricco di idee, materie prime e di storia. La carta utilizzata per il nostro brand è una carta ecosostenibile, originaria delle Marche, di Pioraco, provincia di Macerata, creata con ridotte emissioni di CO2, e, diciamo, ecosostenibile e progettata con standard internazionali. Il tappo è una vera e propria opera d'arte, è il fiore all'occhiello del nostro progetto, è creato da mastri scalpellini di Isola del Piano, della pietra cesana di Isola del Piano. Dulcis in fundo non possiamo che parlare dei profumi, quindi del percorso olfattivo, che ci ha trasportato attraverso le meraviglie del nostro territorio. Le essenze finemente selezionate, miscelate e inflaconate, insomma, nel nostro laboratorio qui di Fano, appunto, Cosmesi Italia, derivano la loro creazione e i loro nomi dall'antica civiltà picena e dalla moderna tradizione marchigiana. Noi della profumeria Taussi collaboriamo già con la Cosmesi Italia e quando abbiamo avuto la presentazione, quando ci hanno presentato questo profumo, abbiamo subito sposato l'idea e siamo esclusivi rivenditori del profumo alla Moretta. È un orgoglio per noi e anche per la città di Fano, ma anche noi come profumeria Taussi. Non solo profumo però, perché grazie alla collaborazione tra la pasticceria Nolfi e il caffè del Porto è nato anche un gustosissimo dolcetto a base di Moretta. Da 30 anni gestiamo questo locale, di cui abbiamo commercializzato questo prodotto fanese che si chiama Moretta, tanto richiesto e tanto venduto. Poi in collaborazione con pasticceri e profumerie è venuta fuori tutta questa gran bella idea che abbiamo sposato tutti insieme e ne siamo veramente tutti orgogliosi. Dopo diverse prove siamo riusciti a creare questo dolcetto fatto in maniera semplicissima, però nel stesso tempo complicata, perché è una tartelletta ripiena con una crema di anice, rum e cognac, il tutto glassato col cioccolato. È nata l'idea insieme al Bar del Porto che ci avevano chiesto di creare un dolcetto e dopo varie prove siamo riusciti a farlo, questo dolcetto. All'inizio non veniva, poi piano e piano. Nuove delizie dunque per l'olfatto e per il palato, ma tutto questo fa bene anche al turismo e al territorio nel suo insieme. Dopo i grandi successi di Tineris abbiamo selezionato dei prodotti d'eccellenza, dei prodotti che veramente sono la fanesità, e quello come la moretta e il profumo alla moretta, i morettini che sono dei biscotti eccezionali al cioccolato, abbiamo portato l'idea, la genialezza dei fanesi in tutto il mondo. Tutte queste aziende che si mettono in campo ideando, creando e progettando per noi sono fondamentali. Sono aziende che con il loro lavoro portano economie reali e noi dobbiamo puntare proprio sulle economie reali, ma allo stesso tempo di identificazione della nostra regione. Quindi, se è vero che si crea felicità costruendo, progettando e lavorando, allora è la strada che dobbiamo sicuramente perseguire e condividere tutti insieme, facendo veramente squadra, valorizzando tutti coloro che hanno queste idee innovative e che vogliono guardare oltre, essere lungimiranti e guardare veramente al futuro, anche se purtroppo ancora siamo in un periodo storico difficilissimo, ma è proprio nelle difficoltà che si crea quel valore aggiunto che è fondamentale per la nostra regione. E da Fanno passiamo a Marotta, dove oggi è stata inaugurata il completamento dell'intervento di ristrutturazione della locale stazione ferroviaria. Il sindaco Nicola Barbieri ha tagliato il nastro ad una stazione più accogliente, funzionale, sicura e finalmente accessibile ai disabili con la realizzazione di un nuovo sottopasso, ascensori, pensiline e mappe tattili. Marche Multiservizi ha completato oggi nel rispetto dei tempi prefissati il nuovo tratto di acquedotto a Muraglia, ora collegato alla condotta principale. Quello dello spostamento di un tratto dell'acquedotto principale è un progetto complesso che fa parte dell'accordo con Società Autostrade per la costruzione della strada di collegamento del tratto finale delle interquartieri con l'ospedale di Muraglia. Infrastruttura compresa nel pacchetto di opere e accessorie alla terza corsia della 14. Le ultime operazioni si sono concluse in poche ore per garantire la continuità di approvvigionamento anche durante l'esecuzione dei lavori. L'intervento ha visto spostare l'acquedotto di un chilometro e sostituire la vecchia condotta con una nuova in acciaio dal diametro di 800 mm. I volontari della Onlus Gulliver in questi giorni sono presenti nella galleria dell'Ipercop Miralfiore di Pesaro per confezionare i regali acquistati dai cittadini negli esercizi commerciali della galleria. Un piccolo servizio al quale si può rispondere con un grande gesto. I volontari infatti focalizzeranno l'iniziativa per raccogliere fondi da destinare al pagamento di bollette di utenze di famiglie cittadine in grave stato di necessità. Sabato 18, domenica 19 dicembre la compagnia teatrale Piccola Ribalta di Pesaro presenta un adattamento teatrale della celebre raccolta di novelle di Italo Calvino le stagioni di Marco Valdo nell'adattamento e regia di Franco Cesaroni e con la partecipazione del Solo Braga Jets Sextet. Appuntamento quindi al teatro di Via dell'Acquedotto sabato alle ore 21 e domenica alle ore 17. E per la prima volta le Marche ospiteranno una mostra dedicata a opere del grande pittore e incisore fiammingo Rembrandt. L'esposizione si chiama Rembrandt Incisore e sarà inaugurata sabato ai Musei Civici assieme a un'altra novità che andiamo a conoscere in questo prossimo servizio. Per la prima volta la città di Pesaro e la stessa regione Marche dedicano una mostra al grande pittore e incisore Rembrandt. Sabato 18 dicembre alle ore 12 a Palazzo Mosca dei Musei Civici inaugura infatti Rembrandt Incisore con oltre 100 opere che raccontano la produzione grafica di uno dei massimi artisti di tutti i tempi. Abbiamo pensato di regalare perché si tratta veramente di un regalo potremmo dire quasi un regalo di Natale a Pesaro una grande mostra su quello che forse è l'incisore più importante, più famoso e anche più affascinante di tutti i tempi che è Rembrandt. Rembrandt è un artista olandese è difficile vederlo in Italia è difficile vedere le sue opere questa mostra ha l'ambizione di mettere a disposizione del pubblico potremmo dire per la prima volta non per la prima volta in Italia ma sicuramente per la prima volta a Pesaro e anche nelle Marche con questo volume di opere mettere a disposizione una grande quantità un'antologia completa dell'opera incisoria di Rembrandt su una produzione di circa 300 lastre quindi abbiamo oltre 100 quindi il visitatore della mostra ha davvero la possibilità di esplorare la produzione dell'artista dalla A alla Z vedere incisioni di Rembrandt in Italia è difficile proprio perché non ci sono siamo riusciti a raccogliere questo eccezionale gruppo di opere grazie alla collaborazione di privati che hanno dedicato anni e anni a ricercarle anche sul mercato antiquario internazionale devo dire che vederle tutti assieme dà anche proprio un po' la quadra dell'impegno, della dedizione e della passione con cui queste figure sono riuscite a raccogliere qui a Pesaro e nelle Marche un gruppo tanto eccezionale di acqueforti di altissimo valore in contemporanea alla mostra dedicata a Rembrandt incisora i musei civici inaugureranno anche Pinocchio acquatico la personale dell'artista pesarese Luca Caimmi con le originali tavole tratte dal suo libro Le avventure di Pinocchio del 2018 un viaggio espositivo che lega Palazzo Mosca alla biblioteca oliveriana La mostra di Luca Caimmi in realtà è nata nelle nostre stanze oliveriane perché sono diversi anni che ci pensiamo a questa mostra poi chiaramente per i motivi che tutti conosciamo l'esposizione è stata rinviata ed è stato finalmente deciso poi di realizzare la parte principale dell'esposizione nei musei civici mentre nelle stanze della biblioteca oliveriana abbiamo pensato di lasciare quella che è l'ambientazione generale di questo Pinocchio acquatico e quindi il mare quindi è con un riferimento a quelle che sono il punto di animali che popolano il mare nella storia nei tempi nel corso appunto dei secoli e per questo abbiamo esposto due nostre opere due opere antiche una del 1500 una del 1600 che sono dedicate appunto ai pesci agli animali acquatici che fanno da contorno e da completamento anche se vogliamo all'ambientazione acquatica del Pinocchio di Luca Caimmi insieme alle riproduzioni delle testi antiche della biblioteca oliveriana ci saranno anche dei disegni e delle interpretazioni di questi animali proprio ancora di Luca Caimmi Entrambe le mostre saranno visitabili ai musei civici fino al 27 marzo Due mostre che inaugurano il 18 dicembre per abbracciare tutto il periodo di Natale ma in realtà proseguire poi anche negli altri mesi invernali fino all'inizio della primavera con due progetti già da qualche tempo abbiamo sperimentato qui dove ci troviamo ora al piano terro dei musei civici il gioco sull'illustrazione contemporanea in dialogo con mostri stracchi invece dell'illustrazione della storia e dell'arte che credo sia anche questo interessante per tanti artisti di oggi e anche per il pubblico che ci accompagnerà lungo le feste fino alla ripresa con le scuole e le gite scolastiche che speriamo possano tornare ad animare i musei civici E' tempo di calendari e il comune di Pesaro per il 2022 ne presenta uno che guarda alle origini storiche della città grazie ai reperti delle storiche piante urbanistiche del 1600 Questo è un calendario storico che ho ideato e progettato e realizzato grazie alla presidenza del Consiglio Comunale e alla Fondazione Cassa di Risparmio basato su una nota piantina di Pesaro risalente a circa 350 anni fa che è stata stampata nel 1663 dai famosi editori olandesi Blau Siamo a presentarlo in questa sala perché qui ce n'è una copia in alto rilievo scolpita nel 1961 dallo scultore Luigi Galli Il calendario è strutturato estrapolando ho scelto dalla piantina 12 emergenze 12 luoghi 12 edifici di Pesaro ognuno per ogni mese per esempio il Palazzo Ducale la Pageria poi Palazzo Baviera la Fontana eccetera e ogni edificio luogo è corredato da tre foto a colori una particolare dall'originale seicentesco del Blau uno dall'alto rilievo e una foto del luogo come oggi per vedere l'evoluzione di ogni singolo luogo davvero una bella iniziativa quella di questo calendario che abbiamo appena visto adesso siamo in chiusura del nostro telegiornale ma vi ricordo di restare collegati sul canale 633 perché questa sera c'è un ricco programma innanzitutto partiamo alle 20.10 con questo interessante accordo della Regione Marche e Sace strategie a supporto dei processi di internazionalizzazione e transizione ecologica questo evento che si è tenuto appunto a Fano mentre in prima serata così come tutti giovedì alle ore 21.20 in diretta lo sottolineiamo sempre e c'è insieme a Canestro gli ospiti di questa sera sono Leonardo Demetrio che è l'ala della VL e Giancarlo Sacco che è l'allenatore potete partecipare e commentare in diretta attraverso il nostro numero Whatsapp oppure sotto la nostra diretta Facebook vi ricordiamo che domani è venerdì e torna il Vallefoglie Pian del Bruscolo Magazine l'ultima puntata di quest'anno perché poi il Vallefoglie Pian del Bruscolo lo troverete appunto dopo le feste di Natale chiaramente tutto il territorio verrà informato costantemente invece con il nostro telegiornale Rossini News quindi domani ore 20 il Vallefoglie Pian del Bruscolo Magazine mentre sabato così come il primo e il terzo sabato di ogni mese arriva Ui Pesaro TV l'approfondimento televisivo a cura del Comune di Pesaro l'ospite di questa settimana è Aidi Morotti che è assessore alla sostenibilità potete vedere Ui Pesaro TV il sabato alle ore 13.30 ma le repliche ci sono anche la domenica il lunedì e il martedì ho detto davvero tutto grazie per essere stati con noi restati appunto collegati su Rossini TV poi se volete vedere la nostra rassegna stampa tornerà puntuale domani mattina alle 7.20 buona serata grazie a tutti